C'è Giovannini e Cingolani. Cingolani! Come sta? Emozionato? No, non è emozionato. Va a lavorare? Allora, vediamo dove vanno intanto. Vediamo se vanno... C'è la macchina che li porta subito via. Giovannini. Cingolani è lì da solo in mezzo alla piazza. L'ho chiesto se si sente emozionato. Ha detto no, vado a lavorare. Inizia bene il neoministro alla transizione ecologica, uno scienziato e un fisico. C'è la macchina per lui e prende l'auto.